Ci troviamo all'interno di un autentico scrigno di bellezza, di bellezza verde. Il Bosco Caracciolo sono due ettari di parco che nascono proprio all'interno del centro storico di Penne e va assolutamente ripristinata la sua funzionalità. C'è un decreto del Presidente dell'Aggiunta regionale d'Alfonso del 2016 che lo riconosce come monumento naturale, però da allora non è stato fatto assolutamente nulla. Con una risoluzione in Consiglio regionale ci chiediamo di impegnare il Consiglio regionale, del Presidente Marsilio, a riaprire questo autentico tesoro e nello stesso tempo con un'azione coordinata con la Consigliera Comunale di Penne Angela Pizzi presenteremo anche lì in Consiglio Comunale a Penne una mozione per fare in modo che nasca un tavolo e si occupi gradualmente di riaprire il Bosco Caracciolo e poi ci occuperemo naturalmente anche della lecceta di Colle Romano. Siamo qui questa mattina in questa bellissima location del Bosco Caracciolo all'interno del centro storico di Penne, per essere precisi due ettari di polmone verde all'interno del centro storico, perché abbiamo deciso come Partito Democratico e in collaborazione con il Consigliere regionale Antonio Blasioli di riprendere in mano una tematica che ci riguarda molto da vicino come cittadini e che ha riguardato molto il Partito Democratico perché le ultime amministrazioni che hanno valorizzato questo parco sono state quelle del centro sinistra. Sia l'instaurazione di questo parco a riserva, così come la lecceta di Colle Romano, sia la gestione e le prime manutenzioni furono svolte dalla loro amministrazione che vedeva come delegato all'ambiente Daniele Toppeta. Oggi questo parco è abbandonato, nonostante questi importanti riconoscimenti e nonostante la sua importanza all'interno del centro storico. È completamente abbandonato a se stesso e non è più neanche praticabile nei sentieri. Quello che noi oggi vogliamo fare è sensibilizzare senza alcuna polemica l'amministrazione comunale a riprendere in mano questo parco con le possibilità e i finanziamenti che ci sono per renderlo di nuovo fruibile alla cittadinanza perché crediamo che questo tema non sia un tema politico ma sia un tema dei cittadini. Il Partito Democratico è pronto a collaborare in un tavolo comune per restituire questa bellezza a tutta Penne e a tutti i cittadini pennesi. Riso tornare soltanto il fatto dell'importanza di questi parchi storici che sono un lascito della storia immenso e una bellezza inusitata che forse tutti ci invidiano. Qui sono stati istituiti due riserve regionali quindi adesso non è più tempo di discutere e fare polemiche noi non le vogliamo fare lanciamo un appello all'amministrazione comunale e a tutti i cittadini perché la città non è soltanto l'amministrazione comunale e quindi vorremmo che si creasse un movimento d'opinione e che il sindaco subito istituisse un tavolo di lavoro che si può cominciare a vedere come avere delle risorse e cominciare a step, caso mai, ad attivare questo parco.